Le aziende legate al clan dei Casalesi erano riuscite a farsi assegnare i contributi a fondo perduto previsti dal decreto rilancio e i finanziamenti garantiti allo Stato del decreto liquidità per l'emergenza Covid. Agivano spudoratamente, sicuri di non essere scoperti, gli uomini del clan che in Toscana avevano organizzato un sistema di reinvestimento e riciclaggio dei soldi della Camorra di Casal di Principe attraverso aziende edili che lavoravano attraverso subappalti e società immobiliari. Proprio dagli investimenti immobiliari è partita l'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Firenze che ha portato a 34 ordinanze cautelari che sono state eseguite questa notte non solo a Firenze, Lucca e Pistoia ma anche in Campania, Lazio e Abruzzo. Tutto è partito nel 2016 quando due commercialisti campani affiancati tra gli altri da un architetto fiorentino originario del Casertano hanno fatto una serie di forti investimenti immobiliari nel Senese. Le indagini della Guardia di Finanza hanno scoperto che i personaggi che facevano shopping ed immobili erano tutti vicini al clan dei Casalesi. I soldi per gli acquisti arrivavano da un vorticoso giro di transazioni che partivano da lavori appaltati dal clan in tutta Italia, da imprese gestite da prestanomi. I pagamenti venivano veicolati attraverso false fatturazioni e società cartiere. Il denaro veniva poi incassato attraverso centinaia di prelievi Bancomat fatti da vere e proprie squadre di prelevatori, quasi tutti nulla tenenti, alcuni dei quali i titolari del reddito di cittadinanza.